Aggiornamenti da Flores Multimedia, ben trovati da Mauro Ciutini, code in A1, siamo a Firenze Sud in uscita provenendo da Bologna. Passiamo alla 11, un veicolo fermo tra Prato Ovest e Pistoia direzione Pisa e un altro veicolo in difficoltà, in A1 questa volta tra Chiusi Chianciano e Fabro, la direzione è quella per Roma. Passiamo alla Firenze e Pisa Livorno, code a tratti tra Ginestra e Fiorentina e l'allacciamento con la 1 Firenze Scandicci, la direzione è quella per Firenze. E a Firenze Città traffico rallentato sui viali in entrata ed in uscita dalla città. Per quanto riguarda i voli, quello da Pisa per Tirana delle 19.15 parte alle 20 e quello per Bruxelles, sempre da Pisa, delle 19 parte alle 20.05. Lavori a Firenze, Viadotto dell'Indiano, da Via Ponte a Greve a Viale Gori, ci sono restringimenti di carreggiata per lavori fino al 15 di maggio. Moversi in Toscana con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze a più tardi.